In questo filmato vedremo come il software Geocat 4.15 interagisce con il software Pregeo versione 10.6. Geocat 4.15 permette infatti di importare ed esportare i libretti da Pregeo e permette inoltre di sviluppare il calcolo catastale lanciando automaticamente l'elaborazione di Pregeo e recuperando le coordinate. Questa prestazione permette poi di ottenere una comoda tabella a video e in stampa con le mute distanze tra i punti fiduciali che vediamo qui sintetizzata e permette inoltre di ottenere il disegno di XF aperto direttamente sul proprio CAD ed eseguito con le coordinate calcolate da Pregeo 10.6. Iniziamo quindi a vedere l'import in Geocat 4.15 di un libretto prelevato dagli archivi di Pregeo. Clicchiamo l'icona per aprire un nuovo rilievo ed apriamo quindi la tabella di Geocat per l'inserimento di un nuovo rilievo. Da questa tabella clicchiamo sull'icona importa da Pregeo. Si apre così l'usuale finestra di Windows per l'apertura dei file. Finestra che come possiamo notare è già impostata nella cartella Pregeo Arc. In questa finestra vediamo che il tipo di file da selezionare è già impostato nel formato .db della nuova versione 10.6 di Pregeo. Geocat tuttavia mantiene la compatibilità con il vecchio formato .mdb della versione precedente di Pregeo e naturalmente anche con i file .dat del classico formato di testo di Pregeo. Nel nostro caso ovviamente ci interessa proprio vedere l'import dal file .db della versione 10.6 di Pregeo per cui lasciamo selezionato questo tipo di file. Andiamo quindi a selezionare il file di archivio Arc.2.db di Pregeo 10.6 e clicchiamo il bottone apri. Si apre così questa finestra di Geocat che elenca tutti i libretti attualmente presenti nel file Arc.2.db di Pregeo 10.6. Selezioniamo quindi il libretto che desideriamo importare in questo caso il primo e qui notiamo anche che questa finestra ci permette anche di salvarlo in formato .dat. Basta infatti selezionare questa opzione e fornire con il bottone sfoglia la cartella e il nome del file .dat da salvare. Nel nostro caso non ci interessa fare questa operazione per cui deselezioniamo di nuovo l'opzione ci limitiamo semplicemente una volta selezionato il libretto da importare a premere il bottone ok. Fatto questo vediamo che il libretto è stato automaticamente importato nella tabella del rilievo di Geocat. Questo ci consente di trattarlo ovviamente come se fosse un rilievo effettivamente inserito in Geocat o importato dalla strumentazione topografica. Possiamo ad esempio attivare il menu contestuale con il clic destro del mouse ed attivare tutte le elaborazioni previste dal software Geocat. Selezioniamo ad esempio l'opzione disegno CAD ed otterremo il lancio automatico del CAD destinato a Geocat con la creazione altrettanto automatica del disegno del libretto che abbiamo appena importato. Nel CAD possiamo così sfruttare tutte le utilità del menu di topografia fornito a corredo del programma Geocat come ad esempio la possibilità di creare nuovi punti celerimetrici o GPS direttamente dal CAD. Attiviamo quindi questa opzione che ci apre questa mascherina con la quale possiamo creare graficamente nuovi punti agganciati alle stazioni del nostro rilievo. Per fare questo selezioniamo ad esempio la stazione 100 che viene scritta in questa cella e poi attribuiamo un nome ai punti che vogliamo introdurre ad esempio 131. A questo punto andiamo a selezionare i punti che ci interessa importare nella stazione 100. In questo caso io sto selezionando semplicemente i punti medi di alcune linee ma ovviamente in un lavoro reale questi punti sarebbero stati preventivamente tracciati in base a delle misure reali. Terminato l'inserimento premiamo il bottone chiudi e torniamo nel programma Geocat. Da qui possiamo ora importare i punti creati dal CAD mediante questo comando importa punti CAD. Cliccando questo comando vedremo infatti che alla fine dei punti relativi alla stazione 100 appariranno quelli nuovi che abbiamo creato nel CAD. Clicchiamo quindi l'icona importa punti CAD e vediamo che in coda alla stazione 100 sono state create le righe relative ai punti 131 fino al 134 dei punti che abbiamo per l'appunto inserito nel CAD. A questo punto possiamo effettuare l'operazione opposta di quella che abbiamo visto finora vale a dire esportare il libretto di questo rilievo nuovamente nel software pregeo 10.6. Per fare questo facciamo un clic destro del mouse ed attiviamo l'opzione libretto pregeo. Vediamo quindi apparire il libretto pregeo elaborato dal software Geocat nel quale vediamo sono comparsi anche i nuovi punti creati graficamente dal CAD. A questo punto vogliamo riesportare in pregeo questo libretto avente questa data e questo numero di protocollo. Per far questo attiviamo questa icona trasferisci il libretto a pregeo. Il programma ci chiede definire il tipo di libretto se tipo S circolare 288 o M modesta entità e anche lo stato del libretto da inserire in pregeo vale a dire i per inserito e per elaborato. Noi scegliamo SEI come stato e premiamo ok. Geocat trasferisce quindi il libretto negli archivi di pregeo e ci indica mediante questo messaggio che l'operazione è avvenuta con successo. Premiamo ok e andiamo ora a lanciare il software pregeo per vedere se l'operazione ha effettivamente avuto successo. Da pregeo attiviamo il menu libretti pregeo seleziona libretto da trattare e vediamo che tra i libretti inseriti nel 2015 c'è il protocollo 7811 relativo al libretto che noi abbiamo appena esportato dal software Geocat. Torniamo quindi in pregeo selezioniamo proprio questo libretto e premiamo ok. A questo punto se clicchiamo l'icona che apre l'editor del libretto di pregeo vediamo apparire il libretto esportato nel quale troviamo naturalmente anche i quattro punti che avevamo creato in precedenza nel CAD. Finora abbiamo quindi visto l'import e l'export dei libretti da Geocat 4.15 a pregeo 10.6. Vedremo invece ora come Geocat permetta di lanciare automaticamente l'elaborazione di pregeo per produrre gli elaborati di cui accennavo all'inizio di questo filmato. Torniamo quindi nel software Geocat e andiamo ad aprire uno dei rilievi che erano stati inseriti in precedenza nel programma. Una volta aperto il rilievo clicchiamo sempre il bottone destro del mouse e dal menu contestuale attiviamo l'opzione calcolo catastale. Così facendo vediamo che Geocat ha lanciato in automatico l'elaborazione di pregeo elaborazione che possiamo ovviamente consultare nei risultati e nella parte sottostante relativa ai possibili errori. Terminata questa consultazione chiudiamo l'elaborazione di pregeo e vedremo apparire in Geocat questa tabella contenente le coordinate relativi scarti elaborati dal software pregeo. Da questa tabella possiamo ora produrre due elaborati molto utili indicati da queste due icone in alto. Il primo di questi due elaborati riguarda le distanze tra le coppie di pf. Geocat permette infatti mediante il menu configurazione pregeo di indicare i file dis della provincia in cui si sta operando. File in base al quale cliccando il comando distanze pf il programma produce questa utile tabella nella quale elenca tutte le coppie di punti fiduciali trovate nel rilievo e riporta per ciascuna coppia tutte le distanze reperite dal file dis che vengono confrontate con la distanza calcolata da Geocat, quella calcolata da pregeo e quella desunta dalla TAF. La tabella si completa inoltre con lo scarto quadratico medio elaborato da pregeo, quello presente nel file dis per ogni coppia di punti fiduciali ed infine l'anno e il numero di protocollo desunto dal file dis. Questa tabella è ovviamente molto utile per fare tutte le considerazioni inerenti ai punti fiduciali utilizzati e per questo motivo Geocat la riproduce anche in forma cartacea mediante l'icona stampa o anteprima di stampa. Cliccando questa icona la tabella viene riprodotta su un file di stampa che può quindi essere ottenuto direttamente su carta oppure esportato in uno dei vari formati come ad esempio Excel, Word o altri. Chiudiamo quindi la tabella delle mutue distanze tra pf e andiamo ora a produrre il secondo elaborato che si può ottenere dalla tabella delle coordinate elaborate da pregeo, vale a dire il disegno di XF ottenuto mediante tali coordinate. Clicchiamo quindi l'icona disegno CAD pregeo e vedremo partire il CAD abbinato a Geocat nel quale appare il disegno del rilievo elaborato come detto con le coordinate di pregeo. Può essere infatti interessante confrontare questo disegno ottenuto in coordinate pregeo con quello che possiamo ottenere invece dal calcolo reale di Geocat. Per creare questo secondo disegno è sufficiente attivare l'opzione disegno CAD del menu contestuale e come nel caso precedente vedremo aprirsi nuovamente il CAD con la costruzione del disegno in questo caso elaborato con le coordinate di Geocat. Per confrontare questo disegno con quello ottenuto sulle coordinate di pregeo andiamo nel menu edita, selezioniamo tutte le entità e per comodità andiamo a cambiarli di colore mettendole ad esempio di colore magenta. Fatto questo attiviamo nuovamente il menu edita e attiviamo l'opzione copia. Questa opzione avrà quindi copiato tutto il disegno elaborato da Geocat e ci permette quindi ora di tornare sul disegno elaborato da pregeo e sovrapporre su questo le entità elaborate da Geocat. Per fare questo attiviamo il menu edita in colla sulle coordinate originali e vedremo la sovrapposizione tra i due elaborati. Ovviamente notiamo delle differenze dovute al fatto che mentre il calcolo di Geocat considera i punti fiduciali come qualsiasi altro punto di rilievo. Il calcolo di pregeo invece effettua una compensazione basata per l'appunto sui punti fiduciali. Questa diversità di calcolo comporta ovviamente delle differenze tra i punti che possiamo andare anche a quotare sul CAD.